Ciao, sono Alessandra, mediano delle belve neroverdi e adesso vi mostro il campo dove svolgerò la prova. Ho un metro da due metri e adesso misuriamo. Quello è il mio connetto di partenza. Quindi due, quattro, cinque. Quattro, cinque, dieci, quindici, ok. 3, 2, 1. Quattro, cinque, dieci, quattro, cinque. 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 Grazie a tutti. Questo è il terzo. Grazie a tutti.